allora tom oggi rende omaggio all'italia con venezia siamo tornati sto gioco di merkel allora oggi ho intenzione almeno di riuscire almeno a finire questa parte qua cioè a a finire una parte perché mi sono rotto un po e questa parte qua allora andiamo ad aprire una cassaforte apri subito vediamo un po sui 120 e 2 che c***o ok apri va bene non voglio fare la gara vediamo un po cosa posso costruire adesso mi mancano soltanto le gemme io ho soltanto 8 gemme quindi vogliamo fare un'altra gara andiamola a fare signori perché perché vede quello in cui ci ha rubato un un salvagente al fenicottero è una cosa sbagliata da fare non si fa non si rubano i fenicotteri alla gente allora voi questo video lo starete vedendo tipo a novembre io sto video lo sto registrando a luglio e voi lo vedrete a novembre ma è tutto nella norma è tutto normale dobbiamo almeno riuscire a fare un mille di quel c***o di gemme per andare a costruire dall'altra parte perché se avevamo tutte quelle cacchio di gemme ce la facevamo costruire quindi cosa raga mi sto riducendo a fare video del genere lo so lo so bene lo so bene e già avevo paura che potesse succedere ma è successo e quindi sì non so più cosa portare sul canale quindi niente oh ma questa parte è nuova ah ma questa era la parte che prima stava che c'erano i cosi gli skateboard oppure come gli chiamo mia nonna gli skateboard eh sì questa era la parte me l'hanno cambiata è molto simpatico molto bello allora andiamo avanti facendo cose c***o la capa la capocchia nooo sono morto molto bello molto bello questo gioco andiamo avanti continuiamo a fare queste partite ora non mi ricordo come si fanno ad ottenere le gemme mi pare da dalle casse forti quindi mi pare che oggi non faremo una m***a allora molto bello andiamo di nuovo in questa zona sempre con lei è molto bello allora è un gioco interessante per i bambini per me cioè io da piccolo ci giocavo e facevo tipo il bimbetto ma adesso mi interessa più mo 149 da 80 a 160 gemme mia c***a di 160 gemme allora quante gemme abbiamo? 8 apri il c***o apri il c***o il c***o eh no devo pagare quindi ci vediamo tra 5 ore posso montare l'altra cosa va bene questo gioco è molto bello perché non mi è andato a seguire sul mio profilo instagram un htv ufficiale dove metto tutte le foto degli eventi posti dove vado appunto vedete ci sono anche le foto di battiti live foto che faccio sia da telefono che anche con la macchinetta fotografica quindi andate a vedere il mio profilo è molto bello e e niente se siete arrivati a questo punto di video commentate con è molto bello e e niente qua metto tutte le mie foto e e basta vedete tutte le foto che che faccio è molto bello andatemi a seguire odaca tv ufficiale su instagram però non su altri siti sono soltanto su instagram è molto bello e in collaborazione con un mio amico ho fatto questo profilo bello che dice al mio amico andate a seguire questa leghe italia eu che significa europa qua mettiamo tutte le foto tutte le foto sul calcio vedi anche le partite mettiamo anche le partite mettiamo anche vedi gli stadi le foto dei tifosi vedi i tifosi le partite tifosi negozi stadi tifosi niente mettiamo un sacco di foto belle molto belle e niente vedete mettiamo pure queste e si quindi il mio amico mi ha mandato questa di webley questa della dell'outbulman del milan queste le ho fatte io e ci sono molte foto che che hai capito ci ci facciamo e poi ci rimandiamo abbiamo fatto questo profilo molto bello andatemi a seguire è partuto ultima cosa della tele vendita a fine video è questo mio profilo di tic e tocchete dove faccio metto video metto molte cose molto bello andatemi a seguire mi raccomando anche qua metto molti video molto bello e niente metto molti video molte cose andatemi a seguire sul calcio su su cose vedete sul calcio vedete quante cose sul calcio spacchettamenti figurine minchiate che faccio io vedete la coppa europa qua e molte cose e niente questa è tutto faccio anche vedere il mare è molto bello si molto bello e si molto bello molto bello e niente vi aspetto andate a vederli tutti mettete like a tutto e si è bello molto bello un po' un po' un po' un po' Grazie a tutti.